«Se cade questo governo, l'unica via è il voto. Poi è chiaro che qualcuno, pur di non andare a votare, aspetta la Befana o Mago Zurlì. Non è rispettoso», lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio 24. «Mi rifiuto di pensare ad altre alternative a questo governo che non siano le elezioni. Se poi arriverà un altro presidente del Consiglio, spero di no, sarebbe irrispettoso nei confronti degli italiani», ha aggiunto Salvini. «Non penso che possano andare avanti molto», ha detto Salvini, referendosi al governo Contebis. «Quello che farà a Palazzo Chigi questa maggioranza, con sempre meno consenso, e attaccata alla poltrona, lo giudichino gli italiani». «Si guardano in Cagnesco, litigano su tutto». Secondo il segretario del Carroccio, il Movimento 5 Stelle ha dimezzato i voti in Umbria perché è il partito dei no a tutto.